Il bando rivitalizzazione delle filiere del Made in Italy colpita dal terremoto intende finanziare progetti che mettono al centro la competitività delle imprese, l'integrazione e la contaminazione fra diversi settori, la riconoscibilità dei prodotti Made in Italy, la nascita di collaborazioni fra imprese e organismi di ricerca pubblici e privati nell'area del cratere. Con la dotazione finanziaria di 15 milioni di euro il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese in forma aggregata di almeno tre imprese tramite contratto di rete oppure associazioni o raggruppamenti di imprese a carattere temporaneo. I progetti ammessi devono rientrare nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente finalizzati cioè ad introdurre innovazione di prodotto, di servizio, di processo e organizzativa nei settori agroalimentare, salute e benessere, meccatronica, casa e arredo, moda. Le domande di partecipazione potranno essere presentate sul sistema informatico Sigef dal 3 settembre al 31 ottobre 2018. Tutte le informazioni sul sito della Regione Marche.